Ciao! Per lavorare utilizzi tutti i giorni il computer ma non hai la minima idea di quello che accade al suo interno? Per cercare quello che ti interessa in rete utilizzi servizi come Google, Yahoo ma non riesci mai a trovare esattamente quello che stavi cercando? Per comunicare con i tuoi amici utilizzi servizi come Whatsapp, Telegram, Facebook, Gmail e hai paura che i tuoi dati personali vengano rubati e soprattutto non hai ben chiaro di quali dati personali stiamo parlando? Per informarti vai sui siti di informazione ma a volte non riesci a capire se una notizia è vera oppure se è una cosiddetta fake news? Bene, se vuoi capire qualcosina in più di tutte queste cose soprattutto se ti interessa un corso gratuito online di informatica e nuove tecnologie ci troviamo ogni lunedì sera a partire dalle 21 e 30 dal prossimo 15 febbraio qui su questo canale YouTube. Il corso di informatica e nuove tecnologie è un corso adatto a tutti soprattutto chi non ha proprio esperienza di informatica e di computer ma la cosa più importante è che il corso è completamente gratuito si potrà parlare si potrà interagire potrete fare domande e soprattutto potrete provare ad imparare qualcosina in più sull'utilizzo della tecnologia che ci circonda tutti i giorni. Bene, se vi fa piacere quindi, lo ripeto, ci vediamo ogni lunedì sera a partire dal prossimo 15 febbraio tutti i lunedì dalle 21 e 30 qui su questo canale YouTube. Vi aspetto!